Il grande dibattito sulla crisi Covid pare al momento aver fatto passare in secondo piano quello sulla lotta al cambiamento climatico. Le criticità sui regolamenti europei che avete rinunciato più volte sono state risolte oppure al momento accantonate? Posso rispondere con una battuta sparita un pochino dagli schermi Greta ma invece il messaggio ecologista è rimasto fortissimo ed anzi credo addirittura amplificato nelle sedi istituzionali. Infatti vediamo che la Commissione sta riproponendo con forza il meno 50% di CO2 al 2030 e la neutralità di emissioni di carbonio al 2050. Proprio pochi giorni fa il Parlamento europeo addirittura suggerisce di elevare questo nuovo target ancora rendendolo più sfidante almeno 60% al 2030. L'industria dei veicoli, l'industria della mobilità che impiega 13 milioni di persone in Europa non ha timore di questi nuovi target sfidanti. L'unica cosa che chiede è che venga indicato un percorso, che venga guidata la transizione perché è inutile porre degli obiettivi se non sappiamo come raggiungerli. certamente il veicolo elettrico da solo non può fare tutto, bisogna abbracciare il concetto di neutralità tecnologica, usare tutte le leve competitive che abbiamo a nostra disposizione e non dimenticarci che l'Europa dal punto di vista demografico è solo il 4% della popolazione mondiale, è ancora il più importante mercato al mondo, produce circa il 22% del PIL mondiale ed è stretto oggi assediato tra il gigante cinese e il gigante americano che non stanno perseguendo esattamente le nostre politiche. Quindi noi chiediamo una regolamentazione competitiva ma competitiva in senso olistico. In questi ultimi giorni si fa molto parlare di idrogeno, crede che la svolta dei paesi europei verso questo combustibile potrebbe contribuire a velocizzare anche la transizione verso l'auto elettrica oppure riportare in auge i progetti sui motori alimentati a questo combustibile verde? Quello dell'idrogeno è un tema molto interessante, siamo molto contenti che le continue pressioni a tutti i livelli istituzionali e non solo abbia portato questo materiale, questa molecola all'attenzione anche dei legislatori. Infatti c'è un grosso piano europeo, tedesco, francese e anche in Italia stiamo parlandone in maniera importante. L'idrogeno certamente farà parte del portafoglio di soluzioni per decarbonizzare il nostro futuro e non solo il settore della mobilità. Non dobbiamo nasconderci però che l'idrogeno che oggi abbiamo a disposizione deriva quasi esclusivamente dallo scarto di combustioni fossili e quindi questo non è l'idrogeno, viene chiamato idrogeno grigio, idrogeno nero, non è l'idrogeno che ci può aiutare per il futuro. Anche pensare di produrre idrogeno con l'elettrolisi dell'acqua, semplicemente con i cascami energetici delle rinnovabili non completamente impiegate, significa illuderci un pochino che questa possa essere la soluzione. In realtà oggi in Italia abbiamo una produzione di 600.000 tonnellate di idrogeno praticamente esclusivamente da combustione di fossili. C'è bisogno quindi di tantissima ricerca a livello europeo, a livello italiano e qui dove possiamo fare la differenza, trovare una via europea alla, diciamo, alla civiltà dell'idrogeno. Stanno cercandolo di fare in Giappone, altri paesi stanno iniziando a studiarlo. Noi dobbiamo immediatamente applicare le migliori risorse di ricerca e sviluppo per cercare di ridurre l'intensità energetica di produzione dell'idrogeno. Questo è fondamentale per il futuro dell'Europa.